Ciao a tutti, sono Alberto Stocco, sono allievo di Paolo Alberto Relle presso l'academia musica moderna di Padova, ora ci troviamo nella sala di ripresa del Prostdorsi del Padmin Studio, sede anche dell'omonima Music Academy in cui insegno batteria e questo è il primo di una serie di episodi in cui esplorrò le tecniche per eseguire film o brani interi richiesti da amici colleghi batteristi. Oggi, viste le richieste di colleghi batteristi, tratteremo la rullata iniziale del pezzo C-Princess degli Spinductors. La rullata iniziale del pezzo consiste in due rulli a 5 con vari accenti spostati e la cassa all'unisono con gli accenti. ecco la prima parte della rullata a velocità ridotta. Ed ecco la seconda parte della rullata. molto importante è di ricordarsi di eseguire la rullata accenti di mano destra e mano sinistra, sempre all'unisono anche con la cassa. Grazie per aver seguito questo primo episodio, ci vediamo alla prossima. Grazie per aver guardato il video. Grazie per aver guardato il video.